Salve, ho assemblato questo circuito per pilotare un CD-ROM e utilizzarlo come lettore di compat disk. Il lettore è un Plexo Premium, è un ottimo lettore, ho utilizzato l'uscita digitale per poi mandarla a un DAC che ho costruito e che vedete nei miei video. Tutto il circuito l'ho costruito, ho assemblato, cercando di non superare i 4 cm di altezza, come l'altezza del CD-ROM, perché poi voglio posizionare tutto in un case slim. L'accensione, utilizzando questo tasto che metterò sul frontale, è tutto così, di colore azzurro. Allora, è il dispositivo che gestisce il CD-ROM, l'ho acquistato su ebay da un sito cinese, diciamo, ed è telecomandabile. Ascriviamo il lettore, inserisco il CD audio e vediamo il risultato. A me è sembrato veramente soddisfacente, anzi, chiedo anche da parte vostra un vostro giudizio sul suono, insomma, sull'audio, sul risultato. In anticipo vi ringrazio a tutti. Grazie 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 a tutti.